E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Cosmos e oggi siamo su un vlog un po' particolare Dunque ragazzi, come avrete letto dal titolo, addio Facecam, no Allora, ragazzi parliamo un attimo, partiamo da un presupposto Io per registrare la Facecam, questa Facecam, da farvi vedere nei gameplay, io uso il cellulare Adesso se voi vedete io sto usando qua il cellulare, quindi capite che è un problema Avevo pensato anche di ripiegare su un'altra Facecam, su un'altra webcam ma andiamo con ordine Perché non ho più intenzione di usare la videocamera del cellulare per registrare ragazzi? Beh per un semplicissimo motivo, anzi in realtà è più di uno ma andiamo Il primo è che adesso che sto registrando io ho paura, paura per un semplicissimo motivo Il mio cellulare ha un difetto di fabbrica, cioè ogni tanto decide così, autonomamente, arbitrariamente Di smettere di registrare o di farmi vedere il video o di farmi giocare Ragazzi in pratica, se sto facendo un video lo stoppa, se sto guardando un video lo mette in pausa Se sto giocando il gioco lo mette in pausa Quindi ragazzi io sto ogni volta a registrare con la Facecam, con il terrore Che se smette di registrare, ma probabilmente nel gameplay mentre c'è una parte clou Io mi devo fermare un attimo perché devo rimettere a registrare la videocamera Devo risincronizzare tutto il video Quindi capite che per me registrare in queste condizioni non è proprio comodissimo Poi consideriamo anche che è sempre un cellulare Quindi se qualcuno mi telefona nel ben mezzo di una registrazione È finita, devo ricominciare Ragazzi no Avevo pensato anche di ripiegare su una webcam che mi regalò tanto tempo fa il mio amico Arno Dorian Ragazzi era una webcam così, tanto per, tanto per Ve la faccio vedere, ce l'ho qui un attimo che la smonto dal monitor Eccola qua Cioè è proprio una webcam cinese Non scherziamoci, è proprio una webcam cinese Qua come vedete ci sono, ve le faccio vedere un attimino Ci sono dei led, eccoli qua Vedete? Sono tre e tre Questi led dovrebbero funzionare Dovrebbero fare luce In caso di buio Per illuminare bene Il problema è che questi led Funzionano a merda Cioè vediamo se Ecco, guardate Per un attimo ha fatto un flash e poi non ha funzionato più Ecco, questo Questa è la webcam che Forse Andrò a utilizzare Ragazzi Voglio provare a registrare qualche video con quella webcam Ma No, assolutamente no Cioè è una webcam che registra Non so neanche in che risoluzione, ragazzi Mi zooma il faccione Cioè praticamente quella webcam Se la metto a questa distanza Come è il cellulare adesso Che è proprio a questa distanza la webcam Mi registra il faccione così Quindi capite che Non è proprio bello Vedere il mio faccione così In 16 noni A 1080 Cioè, no ragazzi Assolutamente no Quindi devo vedere un attimo Come mi posso organizzare Con questa webcam Se effettivamente la posso usare Se vedrò Che effettivamente Questa webcam Non è utilizzabile Per i gameplay Ragazzi Addio Addio Facecam Per Cosmos Ma Solo Solo Per qualche tempo Ho già Addio Allora Calek e Metatron Mi hanno consigliato Un paio di webcam Tra queste Ce n'era una Ottima Me l'ha consigliata anche Il mio cugino Fenix Che è la Logitech C920 Sta sugli 80 euro circa Su Amazon Ragazzi È un'ottima Webcam Quella lì Quella proprio Una webcam Veramente Ottima Per gli youtuber Per chi si vuole registrare Insomma Per queste cose così Quindi penso che andrò a comprare Il problema è sempre quello Non avendo soldi Devo aspettare un pochino Ora Qualcuno mi ha detto Che per Natale Me la vuole regalare Aspetteremo Natale ragazzi Io Ogni volta Devo stare Ad aspettare Eventi Devo stare Ad aspettare Determinate cose Per comprare Che palle Comunque Ne parliamo Quindi ragazzi Per il momento Non è un addio Alla Facecam È semplicemente Un arrivederci Tutto qua Cercherò Di portarvi Comunque Dei gameplay Che vi possano divertire Continuerò Comunque A fare gameplay Cercherò Di riportarvi La Facecam Il prima possibile Ve lo giuro Ma Per il momento Dobbiamo farne A meno Beh ragazzi Vedete il lato positivo Non vedrete più Il mio faccione Nel gameplay Comunque ragazzi Seriamente Noi Ci vediamo In un prossimo video Che sarà Su Non vi dico Su cosa sarà Vi dico solo Che finisce In Siege Detto ciò ragazzi Noi ci vediamo In un prossimo video Concludo questo vlog Facendovi le mie scuse Perché per un bel po' Di tempo Non ho caricato Più niente Su questo canale Vi chiedo scusa Ragazzi Ma Non ho potuto Ho avuto problemi Sto avendo ancora Dei problemi A caricare dei video Comunque Non vi preoccupate Cosmos Non è ancora morto Io sono ancora qua E non sono pelato Ho i capelli E fanno schifo al culo Ma non sono pelato Va bene Va bene ragazzi Per questo vlog È tutto Noi ci vediamo In un prossimo video Un saluto Per il vostro cosmos E alla prossima Ciao Ciao